Ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video Allora dopo un po' di tempo dopo aver risolto degli scazzi dovuti all'orgoglio maschile Finalmente ritorna sul canale Ciao a tutti ragazzi già mi avevate visto in un video precedente col compagno qua Il Lori si è già presentato l'avete già visto avevamo fatto quel video sulla spesa per grossi Ora cercheremo di portare nuovi contenuti perché alla fine così ci si motiva a vicenda e si lavora bene Oggi siamo nella McFit di Fuglio Tessi Non ci siamo mai stati entrambi quindi perché non provarla dato che oggi è un allenamento un po' a caso Io vi farò rivedere un allenamento che avete già visto infatti lo tratterò meno nello specifico Lui si allenerà con me però avendo già finito i suoi giorni di allenamento diciamo si divertirà e sarà più leggero Sarà un video veloce spensierato cioè senza troppi programmi quindi vediamo quello che viene Spero venga qualcosa di divertente e simpatico sicuramente Ora vi faccio vedere un attimo la situazione Siamo due stronzi con poco più di 400-500 follower a te in due La situazione è questa Stabilizzatori cose Cibo roba di palestra sono state varie Qua si è preso sto stabilizzatore che prima o poi dovrò portarvelo anch'io per forza Allora ragazzi noi cerchiamo di impegnarci sempre al top per migliorare la qualità dei video Soprattutto perché cerchiamo di attirare sempre più persone nel nostro canale Vogliamo portare un nuovo stile in questa Italia pacchissima Purtroppo il fitness qua proprio non è capito zero Proprio zero Qua abbiamo l'idea del fitness un po' sbagliata Io e Mattia credo che cercheremo di cambiare un po' la vostra idea in merito a questo Bene bene Hai detto qualcosa di molto interessante ragazzi Sinceramente noi vogliamo portare un'idea differente Un'idea differente chiaramente ispirata all'America chiaramente Perché solo dai migliori si può imparare E mi raccomando mai criticare i migliori Ma sempre vedere come hanno fatto e come sono arrivati lì dove sono E noi ci vogliamo ispirare a loro perché ci piace il loro format Il loro modo di essere, il loro mood Tutto qua Quindi Road to Miami Se ripresento siamo qua nella zona power Ora iniziamo con addominali Allora ragazzi ora 5 per 6 Banca bene i pulsi Arriviamo a metà Spiggiamo un botto Bene ora facciamo military alla Smith 3 per 3 Poi spingiamo Poi quando arriviamo al peso giusto 2 per 6 Spingiamo Ora vedete una parte del video che vi piacerà molto Perché questo ragazzo qua compara i bicipiti Faremo le solite super serie Due con il curl e due con i manubri su Paga 45 Faccio vedere un attimeno Vedi sono ancora grasso E' Torello ancora ragazzo qua Ancora grassissimo We will continue to fight We are We are We are We are We are We are Chasing fire We are We are We are, we are, we are Chasin' fire tonight We are, we are Chasin' fire We are, we are Chasin' fire tonight Rushing towards the light We are, we are Chasin' fire We are, we are Chasin' fire tonight And it feels right We are, we are, we are Chasin' fire tonight We are, we are Chasin' fire tonight Allora doccia Io faccio una doccia Io faccio una doccia E non mancano Io faccio una doccia al volo Poi ci vuoi fare mangiare Allora ragazzi Ho sempre visto Questo attrezzo Nelle varie palestre di box Vorrei provare a boxare Solamente che non c'ho tempo Purtroppo Però Ora facciamo un po' di scambi Bene ragazzi Abbiamo finito finalmente questo workout Allora ora mettiamo un attimo a posto la situazione in macchina Che è un degenero Madonna c'è un casino qua Poi mangiamo un attimino Riso, pollo e le varie cose E Buona Andiamo a fare un paio di foto in giro Vi portiamo chiaramente con noi E poi Abbiamo conosciuto un sacco di belle persone Simpatiche Abbiamo conosciuto anche i mix Che ringrazio Perché è stato carino Scambiare due parole Quindi Alla prossima Grande Ora Mangiamo Ciao Post workout ragazzi C'ho la mia bacinella Con 200 grammi di riso E 380 di pollo La divido per due Faccio uno spunto in ora E poi uno dopo post foto Perché Svegno Che lo vuoi fare? Bene ragazzi Siamo arrivati qua in City Life È la prima volta che ci vengo Ed è Una figata Situazione ragazzi Improponibile Dalla gente che c'è C'è veramente tantissima gente Non mi aspettavo Perché io un'altra volta Sono venuto che non c'era nessuno Ma Vediamo un po' Come organizzare qua la cosa Una figata È veramente bello sto posto Mi piace Sperando che con i soldi di Youtube Mi possa comprare la casa qua Finchia Ora faccio due foto Spero che venga qualcosa di carino Bella raga Mi hanno fatto due foto Favo troppo freddo Stiamo andando dentro La City Life Shopping District Cofitoi Oh Stai riprendendo No Niente zucchero No Scusa No City Life È una bomba È figo Molto Lo shopping center qui dentro È molto bello Ecco c'è una panorata qua C'è troppa gente Attenzione Attenzione Allora ragazzi Stiamo vedendo gli ultimi video E sinceramente Siamo molto felici Dei contenuti Che siamo riusciti a ottenere Usciranno dei bei contenuti ragazzi Sia sul mio canale Che su quello di Mattia Ci siamo impegnati questa volta Poi tralasciando il fatto che Siamo andati in una palestra nuova In che non avevamo mai visto Siamo subito abituati Adattati alla situazione E ci torneremo molto presto Chiaro è un bel luogo Bell'ambiente Belle luci Non male Sì effettivamente Anche delle belle luci Eh già Sinceramente Ho visto la sua attrezzatura E mi è venuto un attimo Voglia di spendere un po' di soldi Ma non lo so Ragazzi Iscrivetevi Fategli spendere dei soldi A Mattia Perché è sempre un po' con le mani Fategli spendere i soldi Dite compra quello Consigliate a Mattia Un po' come migliorare i suoi video Dai Fategli spendere No non me lo dite Che sennò dopo Non fare È un post perfetto Quello è quello che devi fare Sì ma è uno sbatto Bene ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Spero che questa collaborazione Vi sia piaciuta Vabbè che l'avete già vista Però in questo modo no E la riproporremo più spesso Lasciate un bel like A questo video E soprattutto anche al video Dove sarò Presente Nel miei contenuti Nel suo canale Iscrivetevi A entrambi i canali Ora vi lascio in descrizione E Seguiteci su Instagram Lui Qualche idea ragazzi Se avete qualche idea Da lasciare al mio amico Qua sotto Ce l'era dei commenti Liberi di scrivere Quello che volete Sì ma Dove che devo far comparire il tuo nome Dove vuoi Qui Là Allora Seguitici su Instagram A me sapete già dove Ve lo lascio qua Seguiti anche lui su Instagram Non so dove Decidi tu Qui Qui Ok Va bene Bella raga Ragazzi Al prossimo video Ciao Vuoi dire qualcosa? No Ciao Ok ciao 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 GAAAHHHHHHHHHHHHH